8 segreti di Stato sulle scarpe, lo Stato confessi su crimini incriminati, io su tutto il tema di Stato, ho fatto una poemica incomprensibile. Noi vogliamo, questo... Tranquilamente, per me. Capito Sbarzevuti, che ha la foto straordinaria, lo segnalo, Capito, c'è un rischio di un taglio del debito pubblico italiano, come è successo in Crescia, lo chiede che mio nonno, che è il bot, non può non preoccuparsi. Tu, vedendo l'immagine, sì, vedendo l'immagine del profilo, sì. Non ha potuto dare se scherza, ma è tutto uguale. Dirigenti pubblici valutati per merito, non solo a DG, ma anche dal personale dei clienti. Questa è una buona tesi di comitativi e colonesi, con spese davanti, sarà un nome. C'è sempre lo scherzo. Sotto Matteo, perché vuol parte anche di persone, non so doveri fino a questo momento. Dicevo, sì, cosa dava dei dirigenti da valutare anche dai lavoratori dei clienti, è molto interessante, soprattutto perché in alcuni mesi c'è... Inoltre abbiamo messo, studieremo questa possibilità inter... ...durando voglia internazionale sulla competitività. Ecco, questo è un passaggio. una parte della retribuzione legata al Paese, allo Stato del Paese. che è innaurato, in Forza Italia, di Berlusconi, e quindi naturalmente sta dall'altra parte del campo. Quindi, sta dall'altra parte del campo. È misura di rilancio dei consumi. Un dirigente pubblico in città prende dai 60 ai 100 mila euro. Comunque, andate a vedere. Il Paese o loro, no, solo mazzate a noi. A noi gli scusi, che ho detto, quando dice, avevo paura di sfugare con qualche studi di Antonioni, e poi si passa a Fironi e Bink, quindi non c'è come... Molto interessante, Matteo risponde perché...